di luigi pirandello nell'albergo è morto un tale voce di lorenzo pieri 150 camere in tre piani nel punto più popoloso della città tre ordini di finestre tutte uguali le ringhierine ai davanzali le vetrate le persiane grigie chiuse aperte semi aperte accostate la facciata è brutta e poco promettente ma se non ci fosse chissà che effetto curioso farebbero queste 150 scatole 50 per 50 le une sulle altre e la gente che vi si muove dentro a guardarla da fuori l'albergo tuttavia è decente e molto comodo ascensore numerosi camerieri svelti e ben disciplinati buoni letti buon trattamento nella sala da pranzo servizio d'automobile qualche avventore più d'uno si lamenta di pagar troppo tutti però alla fine riconoscono che in altri alberghi se si spende meno si sta peggio e non si ha il vantaggio che si vuole d'alloggiare nel centro della città delle lagnanze sui prezzi il proprietario può dunque non incurarsi e rispondere ai malcontenti che vadano pure altrove l'albergo è sempre pieno d'avventori e parecchi all'arrivo del piroscafo ogni mattina e dei treni durante il giorno veramente se ne vanno altrove non perché vogliano ma perché non vi trovano posto sono per la maggior parte commessi viaggiatori uomini d'affari gente della provincia che viene a sbrigare in città qualche faccenda o per liti giudiziari e o per consulto in caso di malattia avventori di passaggio insomma che non durano più di tre o quattro giorni moltissimi arrivano la sera per ripartire il giorno dopo molte valigie pochi bauli un gran traffico un continuo andirivieni dunque dalla mattina alle quattro fin dopo la mezzanotte il maggiordomo ci perde la testa in un momento tutto pieno un momento dopo tre quattro cinque camere vuote parte il numero 15 del primo piano il numero 32 del secondo il 2 il 20 il 45 del terzo e intanto due nuovi avventori si sono ora rimandati chi arriva tardi è facile che trovi sgombra la camera migliore al primo piano mentre chi è arrivato un momento prima ha dovuto contentarsi del numero 51 del terzo 50 le camere per ogni piano ma ogni piano ha il numero 51 perché in tutti e tre manca il 17 dal 16 si salta al 18 e chi alloggia al numero 18 è sicuro di non avere la disgrazia con sé ci sono i vecchi clienti che chiamano per nome i camerieri con la soddisfazione di non essere per essi come tutti gli altri il numero della stanza che occupano gente senza casa propria gente che viaggia tutto l'anno con la valigia sempre in mano gente che sta bene ovunque pronta a tutte le venienze e sicura di sé in quasi tutti gli altri è un'impazienza smaniosa o un'aria smarrita o una costernazione accigliata non sono assenti soltanto dal loro paese dalla loro casa sono assenti anche da sé fuori dalle proprie abitudini lontani dagli aspetti e dagli oggetti consueti in cui giornalmente vedono e toccano la realtà solita e meschina della propria esistenza ora non si ritrovano più quasi non si conoscono più perché tutto è come arrestato in loro e sospeso in un vuoto che non sanno come riempire nel quale ciascuno teme possano da un istante all'altro avvistargli sia aspetti di cose sconosciute o sorgergli pensieri desideri nuovi da un non nulla strane curiosità che gli facciano vedere e toccare una realtà diversa misteriosa non soltanto attorno a lui ma anche in lui stesso svegliati troppo presto dai rumori dell'albergo e della via sottostante si buttano a sbrigare in gran fretta i loro negozi trovano tutte le porte ancora chiuse l'avvocato scende in istudio fra un'ora il medico comincia a ricevere alle nove e mezzo poi sbrigate le faccende storditi annoiati stanchi tornano a chiudersi nella loro stanza con l'incubo delle due o tre ore che avanzano alla partenza del treno passeggiano sbuffano guardano il letto che non li invita a sdraiarsi le poltrone il canapè che non li invitano a sedere la finestra che non li invita ad affacciarsi come strano quel letto che forma curiosa a quel canapè e quello specchio lì che orrore tutta un tratto si sovvengono ad una commissione dimenticata la macchinetta per la barba le giarrettiere per la moglie il collarino per il cane suonano il campanello per domandare al cameriere indirizzi e informazioni un collarino con la targhetta così e così da farci incidere il nome del cane no mio e l'indirizzo della casa ne sentono di tutti i colori camerieri tutta la vita passa di là la vita senza requie mossa da tante vicende sospinta da tanti bisogni c'è giù per esempio al numero 12 del secondo piano una povera vecchia signora in gramaglie che vuol sapere da tutti se per mare si soffre o non si soffre deve andare in america e non ha viaggiato mai è arrivata iersera cadente sorretta di qua da un figliuolo di là da una figliuola anch'essi in gramaglie specialmente lunedì sera alle ore 6 il proprietario vorrebbe che al bureau si sapesse con precisione di quante camere si può disporre arriva il piroscafo da genova con la gente che rimpatria dalle americhe e contemporaneamente dall'interno il treno diretto più affollato di viaggiatori iersera alle 6 si sono presentati al bureau più di 15 forestieri se ne son potuti accogliere quattro soltanto in due sole camere questa povera signora in gramaglie col figliuolo e la figliuola al numero 12 del secondo piano e al numero 13 accanto un signore sbarcato dal piroscafo di genova al bureau il maggiordomo assegnato nel registro signor persico giovanni con madre e sorella provenienti da vittoria signor funardi rosario intraprenditore proveniente da new york quella vecchia signora in gramaglie ha dovuto staccarsi con dolore da un'altra famigliuola composta anch'essa di tre persone con la quale aveva viaggiato in treno e da cui aveva avuto l'indirizzo dell'albergo tanto più se ne è doleta quando ha saputo che essa avrebbe potuto alloggiare nella camera accanto se il numero 13 un minuto prima proprio un minuto prima non fosse stato assegnato a quel signor funardi intraprenditore proveniente da new york vedendo la vecchia madre piangere aggrappata al collo della signora sua compagna di viaggio iersera il figliuolo si volle provare a al signor funardi la preghiera di cedere a quell'altra famigliuola alla stanza lo pregò in inglese perché anche lui il giovanotto è un americano ritornato insieme con la sorella dagli stati uniti da appena una quarantina di giorni per una disgrazia per la morte d'un fratello che manteneva in sicilia la vecchia madre ora questa piange ha pianto e ha sofferto tanto lungo tutto il viaggio in treno che è stato in 66 anni il suo primo viaggio se staccata con strazio dalla casa dove è nata e invecchiata dalla tomba recente del figliuolo con cui era rimasta sola tanti anni dagli oggetti più cari dai ricordi del paese natale e vedendosi sul punto di staccarsi per sempre anche dalla sicilia s'aggrappa a tutto a tutti ecco anche a quella signora con cui ha viaggiato se dunque il signor funardi volesse no il signor funardi non ha voluto ha risposto di no col capo senz'altro dopo avere ascoltato la preghiera del giovane in inglese un no da bravo americano con le dà in sicilia grottate nella faccia tumida giallastra irta di barba incipiente e se ne è salito in ascensore al numero 13 del secondo piano per quanto il figliuolo e la figliuola abbiano insistito non c'è stato verso di indurre la vecchia madre a servirsi anche lei dell'ascensore ogni congegno meccanico le incute spavento terrore e pensare che ora deve andare in america a new york passare tanto mare l'oceano i figliuoli la esortano a stare tranquilla che per mare non si soffre ma lei non si fida ha sofferto tanto in treno e domanda a tutti ogni cinque minuti se è vero che per mare non si soffre i camerieri le cameriere i facchini questa mattina per levarsela da addosso si sono intesi di darle il consiglio di rivolgersi al signore della stanza accanto sbarcato orora dal piroscafo di genova di ritorno dall'america ecco lui che è stato tanti e tanti giorni per mare che ha passato l'oceano lui sì e nessuno meglio di lui le potrà dire se per mare si soffre o non si soffre ebbene dall'alba poiché i figliuoli sono usciti a ritirare i bagagli dalla stazione e si sono messi in giro per alcune compere dall'alba la vecchia signora schiude l'uscio pian piano di cinque minuti in cinque minuti e sporge il capo timidamente a guardare l'uscio della stanza accanto per domandare all'uomo che ha passato l'oceano se per mare si soffre o non si soffre nella prima luce livida soffusa dal finestrone in fondo allo squallido corridoio ha veduto due lunghe file di scarpe di qua e di là innanzi ad ogni uscio un paio ha veduto di tratto in tratto crescere sempre più i vuoti nelle due file ha sorpreso più d'un braccio stendersi fuori di questo o di quell'uscio a ritirare il paio di scarpe che vi stava davanti ora tutte le paia sono state ritirate solo quelle dell'uscio accanto giusto quelle dell'uomo che ha passato l'oceano e da cui ella ha tanta smania di sapere se per mare non si soffre eccole ancora lì le nove sono passate le nove sono passate le nove e mezzo sono passate le dieci quelle scarpe ancora lì sempre lì sole l'unico paio rimasto in tutto il corridoio dietro quell'uscio solo lì accanto ancora chiuso tanto rumore si è fatto per quel corridoio tanta gente è passata camerieri cameriere facchini tutti o quasi tutti i forestieri sono usciti dalle loro stanze tanti vi sono rientrati tutti i campanelli hanno squillato seguitano di tratto in tratto a squillare e non cessa un momento il sordo ronzio dell'ascensore su e giù da questo a quel piano al pian terreno chi va e quel signore non si sveglia ancora sono già vicine le undici quel paio di scarpe è ancora lì davanti all'uscio lì la vecchia signora non può più reggere vede passare un cameriere lo ferma gli indica quelle scarpe ma come dorme ancora e fa il cameriere alzando le spalle si vede che sarà stanco ha viaggiato tanto e se ne va la vecchia signora fa un gesto come per dire e ritira il capo dall'uscio poco dopo lo riapre e sporge il capo di nuovo a riguardare con strano sgomento quelle scarpe lì deve avere viaggiato molto davvero quell'uomo devono avere fatto davvero tanto e tanto cammino quelle scarpe sono due povere scarpe enormi sformate scalcagnate con gli elastici ai due lati slabbrati crepati chissà quanta fatica quali stenti quanta stanchezza per quante vie quasi quasi la vecchia signora ha la tentazione di picchiare con le nocche delle dita a quell'uscio torna a ritirarsi in camera i figli tardano a rientrare in albergo la smania le cresce di punto in punto chissà se sono andati come le hanno promesso a guardare il mare se è tranquillo ma già come si può vedere da terra se il mare è tranquillo il mare lontano il mare che non finisce mai l'oceano le diranno che è tranquillo come credere a loro lui solo il signore della stanza accanto potrebbe dirle la verità tende l'orecchio appoggia l'orecchio alla parete se le riesca ad avvertire di là qualche rumore niente silenzio ma è già quasi mezzogiorno possibile che dorma ancora ecco suona la campana del pranzo da tutti gli usci sul corridoio escono i signori che si recano giù alla sala da mangiare ella si affaccia all'uscio a osservare se facciano impressione a qualcuno quelle scarpe ancora lì no ecco a nessuno tutti vanno via senza farci caso viene un cameriere a chiamarla i figliuoli sono giù arrivati orora la aspettano in sala da pranzo e la vecchia signora scende col cameriere ora nel corridoio non c'è più nessuno tutte le stanze sono vuote il paio di scarpe resta in attesa nella solitudine nel silenzio dietro quell'uscio sempre chiuso paiono in gastigo fatte per camminarci lasciate lì disutili così logore dopo avere tanto servito pare che si vergognino e chiedano pietosamente ad essere tolte di lì o ritirate alla fine al ritorno dal pranzo dopo circa un'ora tutti i forestieri si fermano finalmente per l'indicazione piena di stupore e di paura della vecchia signora ad osservarle con curiosità si fa il nome dell'americano arrivato iersera chi l'ha veduto è sbarcato dal piroscafo di genova forse la notte scorsa non ha dormito forse ha sofferto per mare viene dall'america se ha sofferto per mare traversando l'oceano chissà quante notti avrà passato in sonni vorrà rifarsi dormendo un giorno intero possibile in mezzo a tanto frastuono è già il tocco e la ressa cresce intorno a quel paio di scarpe innanzi all'uscio chiuso ma tutti istintivamente se ne tengono discosti in semicerchio un cameriere corre a chiamare il domo questi manda a chiamare il proprietario e tutti e due prima l'uno poi l'altro picchiano all'uscio nessuno risponde si provano ad aprir l'uscio è chiuso di dentro picchiano più forte più forte silenzio ancora non c'è più dubbio bisogna correre subito ad avvertire la questura per fortuna c'è un ufficio qua a due passi viene un delegato con due guardie e un fabbro l'uscio è forzato le guardie impediscono l'entrata ai curiosi che fanno impeto entrano il delegato e il proprietario dell'albergo l'uomo che ha passato l'oceano è morto in un letto d'albergo la prima notte che ha toccato terra è morto dormendo con una mano sotto la guancia come un bambino forse di sincope tanti vivi tutti questi che la vita senza requi ad una qui per un giorno mossi dalle più opposte vicende sospinti dai più diversi bisogni fanno ressa innanzi ad una celletta d'alveare ove una vita d'improvviso s'è arrestata la nuova se sparsa in tutto l'albergo accorrono di su di giù vogliono vedere vogliono sapere chi è morto come è morto non si entra c'è dentro il pretore e un medico negroscopo dalla fessura dell'uscio allo spigolo ecco ecco si intravede il cadavere sul letto ecco la faccia come bianca con una mano sotto la guancia pare che dorma come un bambino chi è come si chiama non si sa nulla si sa soltanto che torna dall'america da new york dove era diretto da chi era aspettato non si sa nulla nessuna indicazione è venuta fuori dalle carte che gli si sono trovate nelle tasche e nella valigia intraprenditore ma di che nel portafogli solo 65 lire e poche monete spicciole in una borsetta nel taschino del panciotto una delle guardie viene a posare sulla lastra di bardiglio del cassettone quelle povere scarpe scalcagnate che non cammineranno più a poco a poco per liberarsi dalla calca tutti cominciano a sfollare rientrano nelle loro stanze su al terzo piano giù al primo altri se ne vanno per i loro affari ripresi dalle loro brighe solo la vecchia signora che voleva sapere se per mare non si soffre rimane lì innanzi all'uscio nonostante la violenza che le fanno i due figliuoli rimane lì a piangere atterrita per quell'uomo che è morto dopo avere passato l'oceano che anche la aurora dovrà passare giù tra le bestemmie e le imprecazioni dei vetturini e dei facchini che entrano ed escono di continuo hanno chiuso in segno di lutto il portone dell'albergo lasciando aperto soltanto lo sportello chiuso perché chiuso ma niente nell'albergo è morto un tale